A pochi giorni delle elezioni amministrative la coalizione mociano-democratica non ha altro da fare che accendere la macchina del fango nei miei confronti, forse non hanno di meglio da dire. Per quanto riguarda l'articolo di stampa uscito in questi giorni, mi tocca replicare cosa che non avrei fatto perché mi ero dato come spunto quello di non parlare degli altri, ma mociano-democratica ha pensato bene che anziché di parlare del loro programma, di parlare di me. All'ultimo consiglio comunale ho abbandonato la seduta al secondo punto e non ho votato il piano di protezione civile perché avevo un impegno elettorale e sarei rimasto di più se il sindaco Califfi mi avesse condiviso la data del consiglio e mi avesse detto l'orario, avrei chiesto un anticipo di mezz'ora per poter votare un importantissimo punto il piano di protezione civile al quale ho lavorato come delegato fin dal marzo 2023. Ho preso parte a tutte le unioni da me convocate con la protezione civile locale e con la protezione civile sovracomunale per redigere un piano fondamentale per questo territorio. A settembre 2023 però il sindaco Califfi ha pensato bene di estromettermi da questo tavolo e di farsi inviare direttamente a lui il piano di protezione civile. Peccato che non ricordi il sindaco Califfi che da settembre 2023 a marzo 2024 quel piano è rimasto nel suo cassetto e soltanto dietro mia sollecitazione direttamente alla protezione civile mi è stato inviato e ho sollecitato Califfi affinché si approvasse. Sfido Califfi a parlare di quel piano, a dire se davvero lo conosce o se soltanto lo ha recepito come un impegno elettorale da portare avanti e dire di me di essere stato negligente nella redazione del piano è assoluta falsità una falsità della quale Moceano Democratico e i suoi rappresentanti risponderanno nelle sedi opportune.